in via di grande sviluppo. Chiaramente non possiamo vivere solo con l'export, ma dobbiamo cercare di rafforzare anche il nostro prodotto di gestione all'interno della Regione Lazio, quindi abbiamo bisogno di rafforzare notevolmente le nostre infrastrutture su cui stiamo già lavorando con grande interesse. Io l'altra volta ho già parlato del porto di Anzio, quindi stiamo lavorando seriamente sulle infrastrutture, sulla pontina. Io in questi giorni ho anche lanciato un messaggio di grande responsabilità nei confronti dei colleghi della mia provincia di Frosinone. Di fronte alle infrastrutture dobbiamo fare fronte comune, dividiamoci su tutto, ma non dividiamoci su quelle infrastrutture che servono alle nostre imprese, su quelle infrastrutture che servono a generare ricchezza, su quelle infrastrutture che servono a migliorare la qualità della vita nel nostro sistema regione. E quindi mi riferisco soprattutto alla realizzazione dell'aeroporto della provincia di Frosinone. Non possiamo dividerci su questa importante infrastruttura. Quindi questo aeroporto, ancorché iniziato dal centro-sinistra, io sono uno di quelli di essere d'accordo. Lo sono ancora di più oggi che governo, tant'è che ho chiesto anche all'assessore ai trasporti, l'ho obbligida di aprire un tavolo permanente su questa importante infrastruttura e confrontarci con grande serenità, perché la realizzazione dell'aeroporto in questa provincia sicuramente segnerà un passo importante, ma di crescita politica, della classe politica della provincia di Frosinone. Perché fino ad oggi si è solo chiacchierato, invece dobbiamo cercare di trasmettere un messaggio diverso. Dobbiamo far capire all'opinione pubblica che su queste cose noi siamo abituati a fare un gioco di squadra, come abbiamo fatto nel Lazio Meridionale. L'ho detto pure una settimana fa a Patrica in un convegno molto importante. Il mio sogno è quello di esportare il modello di riferimento del Lazio Meridionale, un riferimento che si basa su un elemento di grande intesa tra le parti. Quindi portare al nord della provincia questo modo di fare per cercare di realizzare questa grande infrastruttura, perché significherebbe rilanciare l'economia della nostra provincia di Frosinone. Ma non è solo questo su cui io voglio confrontarmi con le forze di opposizione, soprattutto con i consiglieri regionali della provincia di Frosinone, ma un'altra sfida importante su cui noi dobbiamo invece porre molta attenzione è creare un collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, cercando di creare una grossa infrastruttura, una rete ferroviaria che possa in qualche modo dividere l'Italia centrale in due e creare una grande porta commerciale, perché il nostro territorio è situato un po' al centro dell'Italia, quindi creare questa porta commerciale che si congiunge con il treno ad alta velocità. Noi per poter creare ricchezza dobbiamo inventarci delle infrastrutture nuove. Oggi il nostro sistema produttivo, caro direttore, non riuscirà più a riassorbire tutte quelle persone che sono state espulse dal ciclo produttivo. Dobbiamo cercare di rafforzare quello che abbiamo, ma di inventarci anche una economia diversa, che è l'economia delle piattaforme logistiche e dei servizi, che è molto importante, oltre all'economia del turismo. Noi stiamo per approvare un importante documento del piano del turismo triennale per poter creare una rete di sistema turismo in questa regione Lazio. Su queste cose penso che la politica deve avere un modo diverso per affrontare queste cose. Si deve confrontare mettendo in campo quel senso di responsabilità, quella responsabilità civica, una responsabilità nei confronti del territorio, una responsabilità nei confronti delle famiglie, una responsabilità nei confronti delle imprese. È questo che dobbiamo fare emergere. Quello che la preoccupa in questo periodo è invece il comparto dell'agricoltura, Presidente. L'agricoltura è un comparto importante della nostra regione. È un comparto che occupa un segmento pari, se non sbaglio, al 10-12% del nostro sistema economico, quindi non può essere sottovalutato. So che la Col di Retti si sta mobilitando, sta facendo una grande manifestazione, non dico contro la regione Lazio, ma per stimolare la regione Lazio, perché ormai la politica agricola regionale per porre più attenzione nei confronti del comparto agricolo. Loro chiedono la velocizzazione dell'erogazione dei finanziamenti europei. Ritorniamo sempre al discorso iniziale, perché la troppa burocrazia sta ammazzando le imprese, in modo particolare l'agricoltura. Non è pensabile che il bando per i finanziamenti che la regione emana, per quanto riguarda i finanziamenti europei per i giovani imprenditori, per le strutture dell'ammodernamento delle aziende agricole, fatte due anni fa, ad oggi ancora i finanziamenti non sono stati erogati. Questo è un sistema che non deve più appartenerci e soprattutto non possiamo permetterci il lusso di perdere 40-50 milioni di euro del piano di sviluppo rurale che andrebbero così a beneficio di altre regioni. Io mi sono già occupato di questo comparto con grande attenzione, ho incontrato già l'assessore regionale all'agricoltura Birintelli, la quale mi ha assicurato che questi finanziamenti non verranno sicuramente persi, ma si è già attivata per velocizzare l'erogazione di questi finanziamenti. Non dimentichiamo neanche però la grande battaglia che la regione Lazio ha fatto a sostegno del comparto agricolo per quanto riguarda il prezzo del latte. Su questo penso che la Goldiretti e anche le altre organizzazioni agricole abbiano trovato una regione molto attenta ai problemi degli agricoltori, ai problemi delle imprese agricole, che è un comparto che a noi...